Prospettive. Questo il nome del premio presentato dalla Piccola Ribalta che prenderà il via quest'anno con la prima edizione nell'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Un'iniziativa che nasce per premiare artisti da tutta Italia che abbiano però valorizzato il territorio pesarese con le loro opere. Per l'occasione sarà inoltre presente in anveste di relatore lo studioso di musica e letteratura Emiliano Visconti. Un premio indetto dalla Piccola Ribalta, premio biennale, che comincia quest'anno. Si tratta di un premio che in qualche modo premia le opere di personalità che hanno evidenziato la parte culturale e artistica del nostro territorio pesarese in tutto il mondo in Italia. Ecco, il primo premio che vogliamo dare alla scrittrice Simona Baldelli che appunto attraverso la sua scrittura è riuscita ad evidenziare anche il nostro territorio. Il premio nasce dall'esigenza di portare un discorso nuovo alla città, nuovo perché il teatro si compone ormai di altri ambiti artistici. Sembrava bello come compagnia teatrale di promuovere nell'anno di Pesaro Capitale Cultura 2024 un premio biennale che andasse a scovare personaggi e artisti che hanno fatto e stanno facendo bella la Pesaro di questo tempo e dei tempi passati. Un'iniziativa che va a premiare le opere degli artisti, da qui dunque la decisione per la prima edizione di assegnare il premio alla scrittrice Simona Baldelli. Abbiamo scelto Simona Baldelli uno perché è nata a Pesaro, vissuta è nata a Pesaro, adesso vive a Roma, ma anche perché tra i diversi romanzi che ha scritto ne ha scritti tre dedicati in qualche modo a Pesaro. Ad esempio l'ultimo spartito di Rossini che appunto parla di Rossina oppure Evelina e le Fate che invece proprio tratta il dialetto scrivendo proprio in dialetto pesarese. E in ultimo ha pubblicato proprio nel mese di maggio l'ultimo romanzo per ragazzi che è Il ciambellano e il lupo che appunto è ambientato sul Monte San Bartolo. Quindi insomma un'autrice che si fa notare per appartenere al territorio pesarese, per noi è importante partire proprio da lei.